Come vi avevo accennato, oggi visita al castello di Roccato, che poi sinceramente non ho capito bene se sia un castello o una specie di cascina, non lo so, adesso lo scopriremo vivendo. Ecco, allora adesso mi avvicino verso l'entrata principale, che io l'ho già vista, in pratica non esiste una vera e propria entrata principale, ma esiste questo, guardate qua, guardate qua, che bello, peccato, peccato perché sarebbe carino, sono carini tutti questi castellini mesi abbandonati, ma magari in una cosa del genere potrei anche farci un pensierino, vedete qua è tutto lavoro in ristrutturazione e poi vi faccio vedere, ecco, questo qua sarebbe in pratica l'entrata, credo, principale, non lo so, boh, perché qua non vedo entrate principali e qua non ci sono porte d'ingresso principali, quindi l'entrata principale deve essere proprio quella lì che vi ho fatto, quella lì che vi ho fatto vedere prima. Lì si va nelle cantine, primo piano, secondo piano, terzo piano e poi ci sono le torri. Sì, diciamo che mi soddisfa abbastanza sto castellino, è anche abbastanza, secondo me è anche facile da gestire, secondo me, secondo me. non so se ci vorrei mai abitare, perché non lo so, però è carino, carino, top. Ci vediamo al prossimo video, ciao!